Buonasera a tutti, ben volentieri concediamo il bis anche perché per mettere su un repertorio come questo ci siamo impegnati molto, tante prove, quindi veramente un grande applauso a tutti i musicisti, componenti della Pilarmonica. Anche stamani, tanto per dirvi, eravamo qui in sede a prove per mettere a posto gli ultimi dettagli, sistemare mille cose, perché quando si fa musica e si cerca di fare bene musica, ma un po' come tutte le cose quando si cerca di far bene, c'è sempre qualcosa da rivedere e da sistemare. Concediamo il bis con il Nessun Dorma. Mi sembra appropriato anche perché andiamo appunto a ricordare i cento anni della scomparsa di questo straordinario musicista che ha veramente dato un qualcosa in più all'opera e al teatro, non solo italiano, mondiale e che veramente è invidiato da tutto il mondo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.